I prezzi sono alle stelle e se prima facevo la spesa da 50 euro a settimana, ora siamo più vicino ai 100. Quindi ho pensato di proporre queste tre ricette, come sempre semplici, alla portata di tutti, buone, nutrienti, ma che hanno anche un basso impatto sul portafogli. Sono Irina e ti do il benvenuto sul canale Spazio Grigio. Siamo in due, io e mio marito, mio figlio ha sei mesi quindi fa solo qualche assaggio, ma c'è mia mamma che è venuta a trovarci, quindi cucinerò per tre, quindi ogni pasto costerà circa 3 euro, più o meno un euro a persona, chiaro no? La prima ricetta è quella della zuppa di piselli secchi. Vi dico solo che l'ultima volta che l'ho preparata, per me e mio marito, ne avevo fatte quattro porzioni da mangiare anche il giorno dopo e invece l'abbiamo mangiata tutta subito. Dunque non è necessario mettere in ammollo i piselli, ma se lo puoi fare per qualche ora aiuta la cottura. Comunque controllare cosa c'è scritto sulla confezione. Cambio l'acqua o se non sono stati in ammollo lisciacquo bene bene cambiando acqua più volte e metto i piselli a cuocere 300 grammi in circa un litro e mezzo d'acqua. Nel frattempo taglio una cipolla media e grattugio una carotta sempre media e metto in padella per qualche minuto con un po' di olio evo. Aggiungo sale e pepe e mescolo. Stavo dimenticando le foglie di alloro. Taglio anche una patata grande o due piccole a cubetti e le aggiungo in padella al soffritto. Mentre aspetto mi piace sistemare la cucina, mettere a posto ciò che ho usato così quando il cibo è pronto non mi resta che mangiare. Quando i piselli sono quasi pronti, dopo circa 25 minuti di cottura, aggiungere il soffritto e le patate alla zuppa, sale e pepe e del dado vegetale. Dopo altri circa 10 minuti, assaggiare se è pronto. Ora per rendere la zuppa più cremosa, a me piace frullare un po' con il frullatore ad immersione, ma giusto per qualche secondo. La zuppa è pronta. Da accompagnare con una fetta di pane, se la tostiamo è ancora più buona. La seconda ricetta è la pasta con broccoli e noci. Mettiamo l'acqua per la pasta e ora laviamo e tagliamo il broccolo. E lo mettiamo in padella con un po' di olio e evo. Non dimentichiamo anche il gambo del broccolo, che è buonissimo. Basta eliminare la parte esterna più dura. A me piace aggiungere anche uno spicchio d'aglio, ma si può mettere. Sale, pepe e aggiungo anche un paio di cucchiai d'acqua per facilitare la cottura e non far bruciare i broccoli. Facciamo assaggiare i broccoli anche al piccolo signorino. Come pasta ho scelto penne integrali che aggiungo all'acqua dopo averla salata. Ogni tanto controllo i broccoli e aggiungo qualche cucchiaio d'acqua della pasta. Mentre aspetto che siano pronti, trito una manciata di noci. La versione più economica è il pangrattato tostato, buonissimo, ma meno nutriente, quindi se possibile userei le noci. Le noci, la frutta secca, ha un prezzo alto, quindi io generalmente prendo pacchi convenienza e alterno. In questo periodo magari prendo noce e mandorle, un'altra volta anacardia e così via. Questi sono del negozio online Koro, vi lascio il link sotto nella descrizione. Quando la pasta è quasi pronta, anche i broccoli sono pronti. A questo punto schiaccio con una forchetta una parte dei broccoli, attentamente per non rovinare la padella. Si potrebbe frullare, ma preferisco questo metodo più veloce. Ancora un po' di acqua di cottura prima di scolare la pasta e mescolo bene tutto insieme. Metto nel piatto e per finire aggiungo le noci. Risultato buonissimo, facile e veloce. Terza ricetta, zuppa di funghi e patate. Cominciamo col tagliare una cipolla medio-grande e poi i funghi. Li lavo e li taglio a fettine sottili. Quando sto per finire di tagliare i funghi, metto in una pentola la cipolla con un po' di olio evo. E dopo un paio di minuti aggiungo anche i funghi. Sale, pepe e un goccio d'acqua. Mescolo e lascio cuocere con il coperchio. Nel frattempo taglio le patate a cubetti e dopo una decina di minuti aggiungo le patate e l'acqua fino a coprire gli ingredienti e il dado. Mescolo e lascio cuocere. Dopo 10-15 minuti assaggiare se è pronto. Aggiungere anche del prezzemolo se piace e spegnere il fuoco. Questa zuppa è leggera, delicata, ma scalda il cuore. Da accompagnare con del pane e volendo in pochi minuti si può preparare questa crema di fagioli cannellini da aggiungere sul pane. Anche questa è una ricetta che costa davvero poco, ma è molto soddisfacente. Ci sono altre ricette a basso impatto economico che ho già condiviso in altri video. Li lascio sotto nella descrizione del video. Spero che queste ricette molto umili ti siano piaciute. Fammi sapere quale di queste vorresti provare. Lascia un like e iscriviti al canale. Lo apprezzo molto. Ci vediamo al prossimo video e fino ad allora buon appetito. Peace.